Le sensazioni dopo il ritorno in campo, anche se per pochi minuti, però l'importante era tornare. Sì, diciamo che sto riprendendo la forma piano piano. Ho subito un intervento, ho un'infortuna, mi sono tornato fuori per parecchio tempo, però piano piano sto rientrando. No, è normale che stanno fuori parecchi mesi, si perdono delle occasioni, però ovviamente il mister prende le decisioni per il bene della squadra. Piano piano spero di tornare ad essere un punto importante per la squadra. Stiamo, indubbiamente, facendo bene. Sono arrivati giocatori importanti che insieme stiamo facendo bene per ora. I tuoi obiettivi quali sono da adesso alla fine della stagione? Ovviamente intanto cercare insieme alla squadra il terzo posto. L'obiettivo è dare il massimo, aiutare la squadra con tutte le mie possibilità per cercare di arrivare ad un obiettivo comune. Tu sei uno dei maggiori artefici della promozione con la primavera, adesso cercherai anche di portare qualcosa di positivo alla prima squadra, cioè tornare in Serie B. Quello è l'obiettivo fondamentale che ci siamo posti dall'inizio. Faremo il massimo, io farò il massimo. Ecco, per chiudere, domenica c'è una partita fondamentale col Fondo Generale. Andate, non l'avete fatto bene, avete perso, c'è stata un po' quella crisi avviata proprio da lì. Ecco, sarà tutta altra partita, tutta altra gara e tutta altra pescara soprattutto. Indubbiamente, da adesso in poi le partite saranno tutte allo stesso livello, tutte delle finali, perché comunque ci sono squadre che hanno obiettivi diversi dai nostri e puntano a vincere come dobbiamo farlo noi e quindi saranno tutte partite difficili.